Come ogni seconda metà d'agosto si rimette in moto l'imponente macchina didattico-culturale dell'Università dell'Età Libera di Pesaro, che per il suo 35esimo anno accademico si presenta con 98 corsi e uno start alle iscrizioni fissato per il 5 settembre. Lo stimolo maggiore che noi abbiamo per portare avanti questa iniziativa, che ripeto è tutta su base di volontariato, è la città che chiede i corsi, chiede di poter occupare un periodo che va da settembre a aprile, maggio, con delle attività o manuali o culturali in un modo concreto e pratico, ma non soltanto per imparare qualcosa, per approfondire qualcosa, ma anche per socializzare. E quindi l'ambito in cui ci possiamo muovere è molto ampio e su questa scia continuiamo ad andare avanti. Pensate che quest'anno abbiamo 98 corsi in totale, di cui 8 corsi nuovi, 98 corsi divisi in 9 aree tematiche, di cui soltanto i laboratori artistici e manuali sono 23 corsi. Voi capite che è un ampio spazio che si dedica non soltanto a quello che è la letteratura, alla filosofia, le lingue, ma anche proprio alla manualità, alla ricerca di quelle capacità artistiche che sono nella città, sono patrimonio della città e che vengono riprese dai nostri docenti. Ma la cosa principale di quest'anno è la modalità di iscrizione. La modalità di iscrizione è una cosa importante, serve ad alleggerire la segreteria e a rendere più comoda anche per tutti gli iscritti il modo di iscriversi. Registrazioni dunque soltanto in via telematica, ma con la segreteria comunque aperta per supportare all'iscrizione con una modalità già utilizzata lo scorso anno da due terzi dei 1700 iscritti ai corsi. Mentre prima avveniva in maniera più manuale, tramite un'email, poi bonifici, eccetera, abbiamo voluto renderlo strutturale, quindi si andrà nel sito dell'università, si registrerà e poi si potranno fare i pagamenti tramite carta di credito, Paypal, Satispay, esattamente come si compra un biglietto per un concerto, come per un biglietto del teatro. È la stessa identica modalità di piattaforma, l'abbiamo voluto utilizzare per semplificare il lavoro sia della segreteria che dell'utenza, considerato appunto il numero elevato che è presente, visto che dopo il Covid, quello che sembrava una situazione emergenziale per cui si erano stati costretti a passare all'iscrizione online, abbiamo invece constatato che è un qualcosa di duratura e costante che viene richiesto dalla maggior parte degli utenti. Questo piccolo cambiamento, come ogni cambiamento, all'inizio potrà comportare qualche difficoltà per la novità, ma è una difficoltà che avrà il supporto della segreteria sempre a disposizione, dove anche lì si potrà iscrivere personalmente, come diceva il Presidente, pagare tramite carta o Satispay o con tanti ovviamente. Partirà dal 5 settembre alle 9 e mezza, questo vale sia per l'online che per chi iscricherà fisicamente in segreteria, perché la procedura sarà esattamente la stessa, cioè in segreteria l'iscrizione avverrà, sarà fatta nella stessa identica maniera con cui si fa online, solo che ovviamente ci sarà un addetta che lo farà. Quindi non c'è una gara o una competizione fra l'online e la segreteria fisica, perché tutti dalle 9 e mezza del 5 settembre potranno partire a iscriversi all'università e ai singoli corsi che sceglieranno.